Dopo l'interpellanza sulla viabilità connessa alla nuova piscina, oggi siete intervenuti sul tema rifiuti. Che cosa chiedete all'amministrazione comunale? Chiediamo due cose molto ma molto semplici, che derivano dalla legge Salva Mare, approvata lo scorso anno ma presentata nel 2018 dal Ministro del Comune 5 Stelle Sergio Costa, dove appunto la legge Salva Mare prevede che i pescatori finalmente possano recuperare i rifiuti in mare, cosa che fino adesso raccoglievano con le loro rete, eccetera, e poi ributtavano sistematicamente in mare perché non sapevano e non potevano portarle a riva e smaltirle. Quindi questa legge invece prevede che i pescatori finalmente possono fare questa operazione, però c'è bisogno di un'isola ecologica in ogni porta, almeno un'isola ecologica, poi dipende un po' dalla grandezza dei porti, alcuni porti in Italia ne hanno fatti più di uno, giustamente essendo molto più grandi di quello di Fano. Quindi noi chiediamo una cosa molto semplice, che venga applicata la norma e che questa norma tra l'altro prevede anche che si facciano dei corsi di educazione ambientale nelle scuole, quindi per sensibilizzare i più piccoli, ma noi chiediamo anche che si faccia un piccolo sforzo in più, cioè che questa sensibilizzazione venga fatta anche verso tutti i cittadini, perché insomma a volte si è un po' pigri nel fare questo tipo di operazioni e quindi un'opera di sensibilizzazione sarebbe opportuna anche per aumentare la percentuale di riciclaggio generale della città di Fano che è ferma ed è stabile da tanti anni. Quindi la norma lo prevede. Noi avevamo presentato un'interrogazione già lo scorso anno, però l'assessora, diciamo, noi pensiamo a pensare male, pensiamo spesso male, ci dicono, però visto che altri comuni come Pesaro vicino a noi l'aveva proprio in quei giorni inaugurata, ha buttato un po' la palla in tribuna dicendo che la legge era nuova, bisognava studiarla un po', bisognava fare accordi con le autorità portuali, Capitaneria, l'ASET e le associazioni di categoria per strutturare bene questa isola ecologica. E' passato più di un anno, stiamo punto e da capo, sui giornali qualche giorno fa un'associazione di categoria ha sollecitato l'installazione di queste isole ecologiche, quindi noi torniamo alla carica, se si vuol dire, su questo piccolo problema. E' una goccia nel mare, perché sicuramente il problema non si risolve con l'isola ecologica, perché l'inguinamento marino è evidente, è palese ed è riconosciuto da tutti, però visto che parliamo di mare, questa goccia servirebbe come tante altre.